Ciao ragazzi, siamo qui in un nuovo video di Clash Royale Oggi giocheremo le partite normali Comunque vi dico di entrare nel clan perchè abbiamo iniziato le guerre E soprattutto perchè giochiamo molte volte insieme e richiediamo sempre le carte e dobbiamo Allora, comunque, nelle prossime guerre sicuramente faremo molto meglio quando, diciamo, queste persone qua saliranno un pochino Allora, andiamo subito a giocare un po' di partite Con il 2.6 in questa arena Andiamo Eccoci ragazzi Aiuto Maledetto Partiamo con un Dongrider E mettiamo Questo conto è livellato Dai Vabbè, per fortuna almeno i pipistrelli c'è a livello basso, ma Tutto il resto è a livello altissimo C'è a livello 10 Aiuto E allora Dai che prima partita Prima sconfitta Ok Adesso Proviamo a partire così E vediamo quello che succede Sbaglio la fireball Però almeno faccio un po' di danno Ho però veramente sto coso immortale Ok Per fortuna l'ho difeso Ma ora ce l'ho Grider Ok Non so se è fatta una giusta scelta Però Il dubbio Noi attacchiamo subito Perché Ok Vediamo Ma questo qua Vorrei cose volanti Solo cose volanti C'è praticamente Questo qui Mamma mia Mamma mia Qui ho tirato bene Però Voglio ammetterlo Che mi hanno fatto Una brutta mossa Vai Vai Ok Attasco di qua No 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 Fermo Fermo Grider Come hai detto Sempre lo Grider E per ora Questo Mamma mia Quanto l'odio Questo Lo sto odiando un sacco Dai Fireball 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 Aiuto Dai Attacchiamo 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 Su qui proprio Mamma mia Regà Non posso giocare A sto gioco Ma Non si può giocare Così Però Dai Regà Non so perché Sto parlando Il romante Ma vabbè Allora Abbiamo pure perso Trenta coppe Ehm Vabbè Andiamo alle prossime Partite Un salto Sì No No Not No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, comunque, probabilmente ricomincerò a usare il deck gigante con la strega. Perché è l'unico deck che so usare benissimo. Anzi, è quello facile, quindi non c'è bisogno di skill per usarlo. Non lo so, però, in realtà, nessun deck ci sono abbastanza difficili. Basta, no, raga, io, io, vi lo faccio qui? No, vabbè, ci vediamo nel prossimo video. Purtroppo oggi abbiamo fatto solo sconfitte, però questo lo direi a livello 9, a livello 5 volevo dire. Che è stato l'asserato in mezzo secondo, ma anche sto coso. Maledetto, cioè, allora, fatemi usare a me, ecco, stavo dicendo, fatemi usare a me, mongolfiera, e questa carta lì, che va, due carte devo mettere, tanto. E il gran cavaliere, mongolfiera, pam, easy, 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 tre corone sempre. Che brutto, veramente, no, raga, io ora, nel prossimo video, mi vedrete sempre con quei deck. Gran cavaliere, no, principessa non ce l'ho, però, che vabbè, la principessa fa un po' schifo, ora io mi copio il suo deck e ti metto il golem del ghiaccio a posto della principessa, che ne so. Allora. Veramente a certe volte che la sogliale è un bellissimo gioco, comunque. Lo facciamo ritornare proprio dietrissimo. Vabbè. Allora, proviamoci, 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 proviamoci. Bellissimo, qui, il tronco. Mettiamo loggrider. 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 Però questo quindi è tutto lo stesso, già lo so da un anno. Tutto sto grader a livello 5, com'è che poi tutto è ste carte? Aiuta! Ma secondo me ha più carte di me in sto deck. Cioè, è più deck più odioso di questo? Non può più avere. Beh, ragazzi, ci vediamo, in realtà, nei prossimi video, credo. In realtà, ancora non è tempo di fare la intro, ma... Ora sì, ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Oh, vabbè, ciao. Ciao.